Benvenuti a questo incontro che stiamo facendo a questo webinar che ha come scopo spiegare il linguaggio del corpo Abbiamo chiamato questo webinar prova mentirmi come il nostro corso sul linguaggio del corpo proprio perché Sono due cose molto collegate il corso svolgerà gli argomenti che presentiamo nel webinar chiaramente in maniera Molto approfondita Quindi stiamo iniziando in questo momento a presentare tutto quanto quindi Palleremo del linguaggio del corpo cominciamo subito cominciamo con presentare l'argomento Cominciamo con il capire a che cosa serve il linguaggio del corpo Allora ci sono diversi punti piuttosto importanti il primo è aumentare le proprie capacità comunicative Ovvero attraverso il linguaggio del corpo si può completare la comunicazione e farla diventare vincente quindi utile Se non mi sentite fatemi sapere se non mi sentite scrivete nella chat adesso ve lo scrivo un attimo Se sentite scrivete nella chat ok Un secondo motivo molto importante Sicuramente è quello di svelare gli inganni cioè il fatto che attraverso il linguaggio del corpo si diventi delle macchine della verità perché il linguaggio del corpo permette di svelare ciò che la bocca non dice Le espressioni i piccoli segnali piccoli gesti Inconsapevoli e talvolta incontrollabili Permettono di capire a un esperto di linguaggio del corpo se l'altra persona sta dicendo o meno la verità Questo è uno degli aspetti più interessanti probabilmente Anche se effetti non è uno dei più Utili perché si è una cosa carina ma non è questo motivo per cui molti si avvicinano Un altro motivo importante è la seduzione ovvero il fatto che attraverso il linguaggio del corpo si può sicuramente Migliorare le proprie capacità comunicative verso l'altro sesso Perché è più semplice riuscire a capire che cosa l'altro ci sta comunicando segnalando E' più facile anche per noi segnalare ciò che vogliamo nella maniera corretta e giusta che Infine è questo è uno dei motivi per cui più gente se avvicina la linguaggio del corpo perché permette di fare molti molti soldi In vari modi sia con la vendita sia con i corsi sia Sfruttando queste caratteristiche nel proprio lavoro Per esempio appunto migliorando le proprie capacità Comunicative magari unici ma io non sono un venditore io mi occupo che ne so Mi occupo di insegnare beh vale lo stesso io non faccio neanche quello io mi occupo sono un Cameriere bene lo stesso uguale perché anche lì ci sono molti spunti che si possono prendere conoscendo il linguaggio del corpo Ok quindi è possibile attraverso questa tecnica imparare veramente Emo Ok vediamo quindi i volti della verità Però le sei emozioni di base quindi rabbia paura tristezza gioia disgusto e sorpresa queste sei emozioni sono emozioni basilari e quindi presenti in tutti gli animali noi compresi E in tutti gli animali noi compresi hanno come scopo comunicare quindi è molto difficile alterarla E' però possibile Cioè c'è gente che effettivamente si impegna molto per cercare di mascherare per esempio la rabbia o la paura perché magari vengono fuori I momenti in cui non vorremmo Sembrare arrabbiati o impauriti facciamo un esempio banale Diciamo che siamo a un colloquio di lavoro ci viene fatta una domanda spiacevole E magari siamo impauriti da come reagiremo quindi facciamo cerchiamo di mascherare questo aspetto o lo stesso se una cosa ci disgusta e anche qui magari Veniamo invitati a cena da qualcuno e ci danno un piatto che ci fa abbastanza schifo Il nostro volto si contrarrebbe per il disgusto e non cerchiamo di mascherarlo quindi queste espressioni Comunque hanno dei micro segnali vengono vetti micro espressioni che non possono essere cancellate magari possono essere ridotte ma non possono essere cancellate Ho detto che il linguaggio e corpo permette di fare più soldi permette di fare più soldi Molte situazioni al tavolo ovvero stando in una posizione di tavolo aumenta il del 60 per cento la vendita l'effetto sull'altra persona non solo vendita quindi anche il rapport Conoscendo il linguaggio del corpo del tavolo aumenta addirittura il 70 per cento nel public di quando si deve parlare in pubblico chi conosce un linguaggio il corpo corretto riesce a ottenere un 70 per cento di effetti in più rispetto a chi non lo conosce sono stati fatti degli esperimenti su questo se una persona che ascolta tiene braccia e gambe incrociate Passa molto meno segnale rispetto a tenere un linguaggio il corpo aperto questa stessa cosa vale anche per il relatore Addirittura per quello che riguarda i video online l'aumento è del doppio cioè chissà utilizzare linguaggio il corpo riesce a far appiazzare i propri video al cento per cento in più In certi casi anche oltre in certi casi se uno per esempio non ha proprio nessuna capacità imparare linguaggio del corpo Riesce a piazzare i sui video anche tre quattro volte di più Comunque si è visto che almeno c'è un raddoppio dell'effetto E in un esperimento della hubbard business school è stato visto che assumere un linguaggio del corpo per soli cinque minuti quindi non dieci ore sono cinque minuti prima di un colloquio permette di essere assunti al 70 per cento in più rispetto a chi non assume questo linguaggio del corpo ripeto cinque minuti Prima bastano cinque minuti per cambiare completamente il modo in cui noi ci poniamo verso gli altri e questo solo con linguaggio del corpo Quindi estremamente importante e utile E infine nella vendita diretta cioè utilizzare le tecniche di linguaggio del corpo in una semplice vendita che potrebbe essere anche fare il commesso in certi versi aumenta del 60 per cento in più le vendite e verso il rispetto a chi non conosce questa tecnica E non è da sola però aiuta O perere una bomba tex allora Verso le donne l'effetto il 60 per cento maggiore cioè sei donne su dieci ritengono che un uomo che ha un corretto linguaggio del corpo quindi che sa trasmettere seduzione Colpisce molto di più rispetto che a uno che non lo sa fare a uno che invece ignora queste strategie tecniche Per l'uomo in effetto è molto maggiore proprio perché gli uomini sono prettamente visivi Si basano su questo per scegliere un partner quindi sia una bella donna una donna brutta molto detto in maniera molto banale è lo stesso vale per Rapporti chiaramente gay anche lì si cerca un uomo che ha un bell'aspetto Quindi non vuol dire solo essere belli vuol dire anche essere comunicativi magari uno non è bellissima Però riesce a far passare il segnale meglio Rispetto a una che magari molto bella che per esempio imbronciata triste in un angolo ecco Magari una che sorride di più che sa come muoversi che sa come ballare che sa come usare il suo corpo per trasmettere I segnali ha un effetto molto maggiore addirittura 9 uomini su 10 sono influenzati da questa caratteristica Molto interessante questa cosa nel 1960 si fece il primo dibattito in tv I due partecipanti non c'è bisogno di presentarli comunque che ne di nixon Parteciparono entrambi fu il primo dibattito in assoluto nessuno dei due era abituato a parlare in televisione evidentemente per motivi probabilmente istintivi che ne aveva un linguaggio del corpo molto preciso molto efficace in televisione mentre nixon No, nixon sera evidentemente abituato a parlare alla radio mezzo molto più diffuso all'epoca E la sua comunicazione ne risultò molto danneggiata addirittura Chi aveva visto il dibattito in televisione Quasi tutti il 90 per cento di chi ha visto il dibattito in televisione ha deciso di votare per Kennedy solo per l'aspetto che trasmetteva forza sicurezza doti da lida Al contrario nixon che non aveva queste caratteristiche E aveva ottenuto un risultato pessimo Però è strano il fatto che invece chi aveva solo ascoltato il dibattito quindi che aveva una radio e ricordiamo Nel 1960 erano molto diffusi ancora le radio più della televisione sicuramente Considerava che invece era nixon quello che sembrava più interessante Perché diceva si parla meglio questo che ne ha un modo di fare un po così Evidentemente appunto nixon si era abituato si era addestrato a parlare più che apparire Purtroppo per lui la televisione lo puni moltissimo sappiamo che di due è stato eletto Kennedy E l'effetto fu così potente che in america si vietò di fare dibattiti infatti Successivamente non si furono più dibattiti fino addirittura a me 170 quindi per dieci anni Si impedirono i dibattiti perché l'effetto era troppo forte Rispetto a ciò che veniva detto cioè si diceva che sì ma uno può anche dire Una valanga di cose cretine però siccome un buon linguaggio del corpo riesce a conquistare più di uno che dice cose sensate ma che non Ha un linguaggio e corpo efficace Anche la fotografia che vediamo si nota come nixon tiene le mani nascoste dietro la schiena guarda verso il basso Che neri viceversa uno sguardo deciso e preciso è dritto sulla schiena è sicuramente in questa fotografia Si uno dove assedire chi dei due il presidente degli stati uniti Beh è facile pensare che neri piuttosto che nixon Ovviamente Oggigiorno soprattutto Allora vediamo io sono una persona che Sono uno scienziato ho studiato scienze applicazioni e scienze della comunicazione Con risultati pessimi perché perché effettivamente nessuno capiva quello che facessi e mi dicevo sì ma cosa che fa io abituato a usare un linguaggio Il corpo è una comunicazione scientifica non ottenevo risultati Studiare il linguaggio del corpo la comunicazione invece i risultati sono cambiati e come E Ho ottenuto questi successi nel giro di pochi anni nel 2012 Ho pubblicato oltre 20 libri a tutto oggi sono ben oltre i 20 chiaramente Ho ridotto il numero però proprio perché erano troppi cioè inutile continuare a pubblicare tutti questi libri quindi ho dovuto ridurre parecchio Le uscite adesso mi sono attestato intorno a una due uscite all'anno massimo Ho fondato la mia scuola informazione che poi ho preferito o confluire con la mia scuola nella scuola forma e mentis di fabio padiscia perché effettivamente Usare una scuola di formazione è un'altra sua informazione visto che siamo in due facciamo la stessa cosa ci sembra un po sciocco quindi abbiamo unito le due cose comunque fondata una scuola per un certo periodo proseguito così è Terzo successo sono stato invitato come esperto internazionale di linguaggio al corpo c'è un altro successo che non ho scritto qui che però Sto conseguendo in questo periodo che essere considerato appunto a livello internazionale anche per pubblicazioni che riguardano il linguaggio del corpo In particolare voglio corpo degli animali perché la mia prima specializzazione questa ma ricordo che anche noi siamo animali quindi Insomma ottenuto diversi successi grazie allo studio della comunicazione del linguaggio del corpo Ora spero che sia tutto chiaro questo punto se ci sono domande o dubbi potrete fermarmi in qualsiasi momento scrivere nella chat Vediamo un po i motivi per cui molte persone non studiano il linguaggio del corpo ovvero le scuse più utilizzate allora Non sono in ordine diciamo non dalla minore alla maggiore ma quelle che secondo me sono i più interessanti La quella che sento una di quelle sento di più è quella del fatto che dicono sì per tanto inutile nel senso è vabbè ok si Linguaggio del corpo poi alla fine non è che viene letto il migliore del linguaggio del corpo magari viene letto un tizio perché è famoso Non è che il venditore migliore quello con le vogliono il corpo è quello che la migliore parlantina e così via non è che il sedutore migliore è quello Quello del corpo è quello più bello tutte balle la lingua il linguaggio del corpo la comunicazione negli esseri umani sono estremamente importanti Noi utilizziamo linguaggio del corpo inconsciamente così come la comunicazione spesso ea un effetto dirompente si vede sempre chissà utilizzare chi no Quindi che è inutile è una balla una scusa Altra parola molto diffusa è troppo difficile e bisogna studiare tutta la vita per impararlo Dipende ovvero volete farne il vostro lavoro come ho fatto io come ha fatto fabio allora sì chiaro che dovete studiare tutta la vita Volete apprendere il linguaggio del corpo per usarlo è un'altra questione molto più semplice e molto più immediato Quindi non è vero che bisogna studiare tutta la vita quelle storie serve solo per diventare esperti nella materia È un po come dire a io non posso usare un computer perché non sono non ho mai studiato programmazione Non è la stessa cosa certo stesso con la sua programmazione conoscerò meglio i computer ma siccome a me magari mi servono per usare dei programmi Quindi non mi serve sapere la programmazione usare lo stesso computer la stessa cosa con linguaggio del corpo non è vero che bisogna essere esperti di tutto per poterlo usare E' chiaro che quella aiuta ma se uno non lo vuole fare non ha nessun motivo per farlo basta che impari linguaggio del corpo Sve le scuse troppo costoso a questa la sentita veramente miliardi di volte Cioè la madre di tutte le scuse e vorrei mai troppo costoso anche qui o che volete diventare dei Formatori fondare la vostra scuola di formazione sul linguaggio del corpo baby costerà È ovvio cioè come imparare qualsiasi mestiere non è che dice io voglio diventare un medico però non voglio Dedicarci tempo ai soldi perché non ne ho allora non fa il medico allora fai un lavoro che ti richiede una formazione molto più bassa invece che I sei anni più specializzazioni magari che richiede tre mesi specializzazione ok è la stessa cosa è questa volete diventare vi ripeto dei Professionisti esperti maestri eccetera e allora costerà molto volete imparare il linguaggio del corpo ma non costa assolutamente Tanto poi più avanti nei webinar vi spiegherò L'offerta che facciamo che sono veramente molto molto vantaggiose e che spero che poi ne approfittiate insomma è L'ultima Comunque è la scusa anche più comune non sono capace cioè come se uno dice e vorrei imparare a fare il calciatore Però non sono capace è mai provata da un calcio a palla no ma tutto già lo so ma bella sono ti alleni Così è la stessa cosa non sono capace di farlo va bene quando ti alleni Quando ci provi e davvero alla fine del corso dici guarda e non so non ho capito niente allora posso dire evidentemente non sei capace A tutt'oggi non ho mai visto nessuno incapace Mi è capitato quello sì una persona che è venuta un corso e se ne andato dopo due ore ha detto vabbè tanto non ci sto capendo niente Questa persona però diciamo anche che ha passato le prime d'ora a scrivere sul telefonino Io continuavo a richiamare delle scusa e lui sì 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 sto ascoltando dopo due ore ha detto vabbè non ci sto capendo niente me ne vado e dove ok non è che Non è se capace non è neanche tentato tutti gli altri tutti quelli che sono venuti al corso tutti quelli che da che abbiamo Iniziato a fare corsi sono venuti da noi hanno sempre imparato e non erano super geni non è che noi facciamo i corsi solo alle persone più intelligenti Della terra lo facciamo a chiunque Qualsiasi fascia di popolazione tutti quanti imparano quindi non è vero che uno non è capace se non ha mai fatto forse ma poi chiunque può imparare I riguaggia il corpo ha cambiato la mia vita Sicuramente era cambiato attraverso le capacità Lavorative che sono molto molto aumentate io grazie a questo adesso faccio video corsi faccio corsi al vivo è solo uno scrittore Quindi ho cambiato del tutto la mia situazione lavorativa che prima era veramente triste vi giuro Allora è aumentata le entrate mensili Assolutamente del 65 per cento in più nel senso che prima faceva una cifra abbastanza Meglia Adesso grazie a linguaggio del corpo faccio una cifra di tutto rispetto poi chiaramente dipendono diciamo ma io faccio 50 mila euro al mese Vabbè se fa 50 mila euro al mese questa cifra che io faccio Magari ti sembra da ridicola siccome io non faccio tutti questi soldi per me è una cifra abbastanza interessante Dipende anche da quanto uno si dedica chiaramente io per quello che mi riguarda mi ci dedico col tempo che posso e mi ha dato dei buonissimi risultati E Questo E il capolavoro del capolavoro e diciamo che Grazie al linguaggio del corpo Allora io prima ero molto 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 sfigato con le donne E questo perché la mia comunicazione era terribile io chiaramente non me ne rendevo conto più che donne parliamo di ragazze cioè quando ero Un ragazzo anch'io e cercavo con queste ragazze e le risposte erano picche fisso Ero il classico sfigatissimo che non riusciva a capire neanche perché quando imparate il linguaggio del corpo detto ma guarda un po Cioè io non ne sapevo una io vi presentavo malissimo mi Comunicavo peggio ho provato a cambiare le cose e da quando ho imparato il linguaggio del corpo Ma non ho più avuto un rifiuto sinceramente tutte le donne che mi hanno interessato le ho conquistate sempre Quindi c'è stato Una trasformazione Anche in questo adesso sto con una persona con una donna che mi sono scelto e con le quali sto veramente bene Anche lei è stata influenzata chiaramente la mia comunicazione sedutiva Infine beh la sicurezza la mia sicurezza è praticamente raddoppiata Io messo 95 per cento perché è meglio sempre lasciarsi un margine ma di fatto è raddoppiata Cioè prima di utilizzare questo mi sentivo molto più sicuro sentivo che c'era qualche cosa che mancava e sono una persona Fondamentalmente timida Lo ero ora non lo sono più neanche neanche in fotografia però prima di conoscere bene la comunicazione Lenguaggio al copero molto timido perché ho paura di sbagliare Paura di non riuscire a farmi capire dagli altri paura di dire delle cretinate E adesso parlo di fronte a platea e senza alcun problema Questo perché so che costo comunicato Vediamo un po quanto è utile il linguaggio del corpo allora tutti sanno questa Fatto che è la comunicazione non verbale il paraverbale quindi l'uso della voce cambiano del tutto L'effetto che si ha durante un primo incontro e siccome il primo incontro è estremamente importante Perché cambia del tutto il modo in cui gli altri ci percepiranno da lì in poi non è per dieci secondi da lì da lì in poi Beh è inutile che io con centri tutta la mia attenzione sul verbale cosa che purtroppo molti fanno molti dicono Io so parlare bene meglio per te ma non basta anzi Può parlare bene quanto vuoi ma quando incontri qualcuno è l'ultimo degli aspetti Diventerà molto importante dopo sicuramente sì ma vi faccio un esempio banale Abbiamo è molto difficile che siano dei grandi oratori magari ci sarà che qualcuno così ma saranno Per noi amici per altre doti piuttosto che per come parlano bene Ok quasi sicuramente ci hanno comunicato qualche cosa attraverso la loro voce attraverso la loro comunicazione Fisica quindi gesti delle espressioni facciali il modo in cui si vestivano che c'è risultato molto più attraente interessante magari Più magari o divertenti magari erano simpatici magari erano Davano trasmetteva sicurezza qualsiasi cosa sia non hanno trasmessa con le parole le parole sono l'ultima cosa Certo ci sono e posso dire che più passa il tempo più Cambia l'importanza Cioè se io sto con una persona facciamo un esempio Mi fidanzo con una donna non è che tutta la vita io continuano a puntare sulla comunicazione non verbale non ci parlerò mai non ha senso La comunicazione verbale diventerà via via sempre più importante ma primo impatto è molto più importante quella non verbale Ok Quindi come funziona questo benedetto linguaggio del corpo funziona così molto semplice c'è uno stimolo Che può essere positivo o negativo con che qualche cosa che attira la nostra attenzione quindi che richiama il nostro cervello Il nostro cervello quindi Reagisce una piccola parte nostro cervello che si chiama amigdala è una parte molto piccola ma molto importante si trova nella parte più Primitiva del cervello quella che indicata nell'immagine Che è quelli sistema detto sistema limbico e la parte istintiva Del nostro cervello la parte che è preposta a salvarci la vita ea reagire Quindi stimolo risposta immediata è la cosa e la funzione più rapida che praticamente abbiamo C'è un fatto noi non siamo solo creature istintive abbiamo anche una ragione quindi interviene un'altra parte del cervello quella che si chiama corteccia Prefrontale dell'immagine che è la parte è appunto Sede della ragione questa parte cerca di frenare le reazioni istintive quindi vediamo una cosa la vogliamo facciamo un esempio quella donna a Voglio abbracciarla voglio baciarla voglio sfogliarla Interviene la parte per sopra corteccia per affrontare diceva beh non è che puoi spogliare tutte le donne che vedi calmati Ok e allora cosa succede un altro esempio potrebbe essere cibo e se questa cosa non vi piace potrebbe essere Vedo una torta bellissima buonissima vorrei mangiarla E la parte di siti e c'è vero diceva voglio mangiare la torta la corteccia per affrontare eccessiva ben grassi di 10 kg Magari ti fa male magari ti viene mal di stomaco eccetera quindi blocca la reazione Ma siccome è più veloce la migda il linguaggio del corpo ben tradito ovvero la migdala già partita La corteccia per frontale può cercare di frenarla ma la migdale troppo veloce di conseguenza il corpo scarica si dice genera un gesto Istintivo e automatico questo è il linguaggio del corpo Semplice ma assolutamente forma Vediamo qui parleremo stasera parleremo del contatto spaziale quindi il territorio e contatto corporeo della prossemica Parleremo del comportamento motorio gestuale quindi digit simbolici quelli illustratori emotivi interattivi adattamento Parleremo del comportamento mimico del volto del fax e dell'em fax cosiddetto del comportamento visivo quindi dello sguardo Negli aspetti non verbali nel parlato quindi il paraverbale E infine dell'aspetto esteriore Cominciamo appartamento spaziale ovvero dal fatto che E lo spazio esterno genera delle reazioni automatiche quando vediamo uno spazio esterno cerchiamo di Delimitarlo capire se fa parte il nostro territorio o no Se fa parte il nostro territorio ovvero del luogo che noi reputiamo come il nostro Nel senso di luogo che mi appartiene luogo che io ritengo importante No, te limiterò magari attraverso dei graffiti dei segnali delle fotografie Questo è importante la prossemica cioè la distanza a cui stiamo rispetto agli altri questa è molto variabile Per Che può avere un effetto che cambia del tutto la comunicazione se ci troviamo a pochi centimetri o un metro e mezzo dall'altra persona E infine il contatto corporeo questo poi se di tanti tipi può essere funzionale si dice per esempio quello del medico col paziente può essere intimo Come la mamma col bambino può essere sessuale come nella foto può essere amichevole come due amici che si danno una pacca sulla schiena può essere sociale come la stretta di mano in tutti I casi ha un effetto Quindi Vediamo i gesti Possono essere illustratori quindi quando illustrano ciò che si dice ok come questo nella fotografia persona muove le mani senza fare un gesto specifico Perché in questa maniera sta illustrando quello che sta che vuole far capire all'altro sta sottolineando le parole con dei gesti Questi sono tipici di chi è sincero quindi chi si affida proprio alle parole che sta pensando in quel momento se invece uno vuole manipolare L'altro allora farà dei gesti che vengono detti simbolici quindi che hanno un significato ben preciso ma che non sono sinceri Tant'è che questi gesti sono stati visti molto in chi mente aumentano in chi mente quindi Ci sono poi gesti di adattamento che sono fatti sono estintivi vediamo in questa foto Una donna che fruga nella borsa Ma senza guardare nella borsa quindi non serve qualche cosa della borsa stessa si sta si sta muovendo in questa maniera per cercare di Alleggerire una tensione crescente un segnale molto tipico di questo il prurito infatti se avere prurito sul naso sulle guance sul Sole spalle dove ci pare su tutti i scarichi su tutte Reazioni di c'è qualcosa che non va chiaramente se c'è appunto una zanzara è un'altra cosa Se abbiamo la varicella un'altra cosa ma se non c'è una causa esterna il prurito verrà lo stesso Ci sentiremo in tensione Infine i gesti interattivi quelli che facciamo per sincronizzare la comunicazione con l'altro Quindi tipo parlo io mettere la mano davanti toccare l'altra persona e così via questi sono il comportamento ha detto motore gestore quindi i gesti Conto mimico del volto il volto sicuramente è l'area più importante per la comunicazione Perché è il canale principale per trasmettere emozioni e messaggi A due re differenti una parte superiore e inferiore Ovvero a parte superiore è quella che va dalle dagli occhi la fronte e che voglio che sta parte qua e la parte inferiore che coinvolge guance e bocca La parte superiore è quella che non mente diciamo la parte inferiore è quella che mente molto di più Attraverso un'analisi che veneta fax cioè fascia action codec system Resa celebre dalla serie tv light to me è possibile capire chi sta mettendo chi dice la verità Cosa importante il volto si modifica sempre mentre si parla Per quello che riguarda il comportamento visivo cioè lo sguardo beh tra tutti i messaggi è probabilmente l'effetto più importante È capace di generare una salienza importante quindi quanto ci guarda qualcuno tanto è la reazione che possiamo generare Ha un potere attivante molto forte se io guardo qualcuno in faccia o non lo faccio cambia del tutto la mia comunicazione Cosa comunica tantissime cose la forza quando è fisso la timidezza quando è verso il basso il bisogno di affiazione e quindi Di cercare qualcuno lo fanno soprattutto i bambini cercano il nostro sguardo La sfida quando appunto indica arroganza magari controllo un genitore verso un figlio l'amicizia chiaramente o la seduzione Un attimo nel parlare è tremamente importante la comunicazione eppure completamente sottovalutato Allora è costituito da un timbro che quella o che caratterizza la voce di ciascuno da un ritmo ogni persona parla una velocità differente C'è anche un volume che è molto diverso da un tono facciamo un esempio di volume volume può essere voce molto alta Voce molto bassa il tono può essere tono molto basso tono molto alto non ha niente a che fare col volume Certo molte persone preferiscono usare un tono alto a un momento Rispetto a un tono basso volume basso ma è meglio utilizzare un tono basso e un volume alto per avere un buon effetto pare anche per le donne Importante estremamente importante soprattutto nella prima nel primo impatto nel primo effetto Immaginate che io in questo webinar parlassi con una voce a stridone magari lenta magari senza mantenere un ritmo È un effetto molto diverso anche se dico delle cose correttissime vero proprio perché paraverbale è fondamentale non lo cura quasi nessuno Quasi tutti dicono vabbè ci sono nato ma lo tengo sbagliatissimo Infatti cosa ho scritto quanti usato e lo tutti in uso non c'è nessuno che può Comunicare in maniera efficace con un'altra persona senza utilizzare la voce Soprattutto al telefono eppure quasi nessuno lo cura quasi tutti passano tantissimo tempo a curare l'aspetto fisico quasi nessuno si occupa della propria voce Nell'aspetto esteriore aspetta esteriore è composto di un aspetto statico e dinamico statico per esempio i vestiti che indossiamo in quel momento Dinamico per esempio l'espressione che abbiamo al volto Possiamo avere una faccia trista faccia allegra mentre parliamo la stessa persona ma i vestiti su quelli E' molto importante anche chi dice ma me non interessa sono tutte balle Quanto è importante E comunica tutto Ora verso due estremi secondo voi se voi dovreste comprare una macchina Mi fidereste di più della ragazza nella fotografia o del ragazzo di quest'uomo L'uomo in basso dicono nel fuggire è chiaro che la donna Possibile una moda quella che preferisce però non comunica sicurezza o come dire serietà mentre l'uomo Un vestito sobrio elegante indica io sono una persona che si interessa agli altri perché sono vestito con una maniera corretta Quindi l'abito fa il monaco C'è una persona Per in tutto ci occupiamo della faccia Poi ci occupiamo della postura quindi la posizione del corpo in quel momento Ci occupiamo della prossemica ci sono altre persone che relazioni ha con le persone vicine e lontana e fine Osserviamo i gesti che nelle mani ferme Tieni piedi fermi tiene a testa fermo oppure si muove di continuo se si muove come si sta muovendo In questa maniera possiamo fare un'analisi molto accurata di chiunque ci sta parlando o di chiunque vogliamo parlare Vogliamo osservare possiamo fare chiaramente un'analisi anche di un video non è che dobbiamo avere per forza personale davanti Quindi Adesso vi dico come fare imparare tutto questo Primo punto io consiglio di seguire un corso tu diceva beh perché fai corsi certo però non è solo per questo è perché proprio seguendo un corso si può Assolutamente sentire tutto quello che dice il maestro fagli delle domande e se è molto più interattivo E soprattutto in pochissimo tempo basta un giorno due per imparare veramente tutte le basi del linguaggio del corpo È molto utile esercitarsi una volta è fatto il corso ti eserciti nell'applicare quello che hai sentito in quel caso Avrai sicuramente un ottimo risultato Questo è un punto molto importante molto dimenticano Molte di cose il corso l'ho fatto lo metto da parte non imparerai mai niente così il percritto c'è velo non si è mai attivato per imparare quindi è utile esercitarsi E alla stessa maniera utile Ricordarsi che è meglio fare una cosa per volta il linguaggio il corpo come abbiamo visto coinvolge molte cose Se io cerco di osservare tutto in una volta dall'inizio premete mi perderò è meglio concentrarsi su una cosa magari comincio dal volto O magari comincio dall'analisi dei gesti o magari dall'analisi del territorio Semi Quando completo uno step vado avanti in questa maniera non avere tutti quanti gli step Infine è utile procurarsi altro materiale che potrebbe essere dei libri dei video corsi in questo webinar vi proporremo delle proposte A sconti molto convenienti Proprio per avere altro materiale in più il materiale in più è molto utile come materiale in più Cioè utilizzare solo un libro e lo dice uno che scrive lì bisogna già il corpo è utile sicuramente ma non basta ve lo dico proprio Sinceramente è molto utile ma da solo se uno pretende di con un libro solo imparare tutto è insomma è una buona speranza Ma le possibilità che ci riesca davvero sono davvero pochine è un po come dire a voglio imparare inglese mi sono comprato un libro Vabbè se ti basta meglio è difficile Però è la stessa maniera vero dire a ho studiato inglese e non ho mai comprato un libro Anche questo probabilmente non ti basterà quindi più materiale ai meglio è Ora noi faremo una propò Poco dove vi farò capire che non ci servono molti soldi e possa ed è possibile ottenere molti risultati Perché fare i corsi fornimenti Allora i motivi sono quattro fondamentalmente il primo è che ci occupiamo di tutti gli aspetti che abbiamo descritto fino adesso quindi seduzione Quindi linguaggio al corpo per il lavoro quindi per migliorare la propria comunicazione e per vendere di più Poi abbiamo dieci anni di esperienza sul campo non sono in tanti a poter vantare una cosa del genere soprattutto in italia dove molti si improvvisano e pochi sono veramente esperti Terzo punto non c'è nessuno ve l'ho già detto prima che fa i corsi e poi dice io non ho imparato niente non ho avuto un risultato non esiste Ci sono persone che vengono al corso quello purtroppo capita e non mettono in pratica nulla e vabbè Quelli che mettono in pratica tutti quelli che hanno messo in pratica quello abbiamo insegnato hanno detto subito ci hanno sempre comunicato Guarda grazie a questo corso imparato a fare questo in più non lo sapevo fare ora lo so fare quindi ci sono tanti risultati tutti positivi Comunque E infine l'altissima formazione e fabio siamo fra i più esperti di linguaggio al corpo in italia e aveva formazione altissima Siamo entrambi i laureati io ho specializzazioni post laurea e fa Quindi che studia tuttora tutte le componenti della comunicazione umana Quindi diciamo che è difficile anche trovare gente più esperta di noi con un profilo come il nostro Per capire che quello che sta parlando non è uno che si è inventato che si è improvvisato siamo esperti veri Qual è lo scopo del corso prova a mentirmi Prima di tutto Capire le parti di cui abbiamo parlato quindi l'analisi del corpo analisi del volto il fax e le vecchie espressione al prossimo I focus saranno svelare gli inganni e a base della seduzione successo al lavoro migliorare la comunicazione quindi quattro punti che ho detto all'inizio Il valore stiamo parlando il 16 ore di formazione Con una preparazione ai due corsi fondamentali il metto e il fax per imparare e mettere in pratica il linguaggio del corpo il costo 350 euro Trovate qualsiasi altro corsa un costo più basso di questo non veramente vi sfidiamo a trovarlo perché insomma Ma Amore a qui a webina e l'anno super offerta Invece che 350 euro non vi mettiamo 300 euro più il pernottamento gratuito più i nostri libri sui linguaggi del corpo che sono il metodo antibale prova a mentirmi Il tutto Per un prezzo assolutamente assurdo ovvero invece che Pagare 350 più 45 più quello Anziché 395 e il costo del libro verrà scontato da chiunque lo porterà al corso quindi uno dice io ho comprato il libro Prova mentirmi ho comprato l'imprimento d'antibale rapporto al corso ce lo fa vedere eccolo qua Se ce l'ha davvero il costo del corso verrà sottratto al costo del corso Il costo del libro volevo dire verrà scontato al corso del corso quindi Stiamo parlando in meno di 300 euro Allora mettiamo volete fare dei videocorsi Allora qui sto facendo una super super offerta sul corso base il cui valore a tanto Hanno a 20 85 ho fatto anche risconti sui corsi istituzione In così seduzione per Contatti del 25 per cento infine il corso E per il linguaggio Contatto signori 15 Se trovate qualcosa di meno vi ripeto vi sfido potete trovare tutto quanto sul indirizzo qui sovraimpressione Corsi.it auto antonio merita Per chiunque volesse queste offerte mi può chiamare in più Oltre lo sconto al 25 e del 75 per cento io vi Includo una coaching personale chiunque compra un corso da me può venire a dirmi dire Buongiorno vorrei avere la coaching personale il contatto per parlarmi di a skype o se abita dalle mie parti per incontrarmi di persona Dico sempre bene chiunque fa una con ha comprato uno dei miei video corsi può farlo senza alcun problema Sono della coaching personale Prenotate subito e potete andare sulla pagina fornimenti spera comprare il video corso il corso di cui abbiamo parlato di cui abbiamo già partato E vi ricordo che i posti sono estremamente limitati perché noi facciamo sempre piccoli corsi Di massimo dieci persone perché oltre diventa difficile seguirle quindi se siete interessati partecipate subito Vi ripeto anche lo sconto immediato 25 per cento su seduzione per noi per lei 75 per cento sul linguaggio e corpo base linguaggio e corpo lavoro ora l'offerta che ci stiamo dicendo adesso non verrà ripetuta perché ci stiamo rendendo conto che I prezzi sono troppo troppo bassi E quindi abbiamo deciso solo per questa volta di lasciarli dalla prossima volta non ci sarà più lo sconto per pernottamento quindi chi vuole venire a segno di corso se lo pagherà il pernottamento e i corsi i video corsi non saranno più così scontati perché è proprio un'offerta lancio che stiamo facendo in questo periodo per i webinar ma d'ora in poi probabilmente nasceremo alcuni sconti mai così alti perché veramente non ci paghiamo quasi nulla Vi ricordo che chi compre il nostro libro può portarlo assolutamente al nostro corso dal vivo e avrà uno sconto su tutto quello che sulla costo del corso stesso Grazie mille